E prosegue anche a Cremona la petizione sul progetto di legge della separazione della carriera dai magistrati promossa dalle Camere Penali di Cremona e Crema. Adesso è con noi in studio l'Avvocato Alessio Romanelli della Camera Penale. Buonasera. Buonasera. Come sta andando quindi questa raccolta firme e siete andati anche in carcere a raccogliere firme, quindi ci parli un po' di questa esperienza. Sì, allora la raccolta firme sta andando bene. Noi abbiamo iniziato raccogliendo le firme all'interno del Tribunale, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Siamo poi usciti nelle piazze, quindi abbiamo fatto la raccolta in piazza Stradivari e da ultimo, due giorni fa, siamo andati in carcere. Ero già andato io in precedenza una ventina di giorni fa, avevo incontrato una delegazione di detenuti, avevo spiegato loro il significato della proposta di legge costituzionale sulla separazione delle carriere, mi avevano ascoltato con interesse. Siamo tornati, sono tornato io insieme al segretario della Camera Penale, l'Avvocato Laura Negri, a Paolo Carletti, avvocato iscritto alla Camera Penale, consigliere comunale per il Partito Socialista Italiano, che è venuto per autenticare le firme dei detenuti. Ci hanno accompagnato anche un paio di iscritti al Partito Radicale Trasnazionale Transpartito, tra cui Sergio Ravelli, presidente di Radicali Cremona. siamo andati in carcere, abbiamo raccolto le firme sia nel vecchio padiglione che nel nuovo padiglione. Abbiamo raccolto una cinquantina di firme e siamo molto soddisfatti. Ecco, ricordiamo che cosa significa questa petizione, la vostra proposta. È una proposta di legge popolare, è una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, l'obiettivo è raccogliere almeno cinquantamila firme, è stata promossa dall'Unione delle Camere Penali italiane e vuole modificare la Costituzione introducendo questa separazione delle carriere di cui tanto si parla. Il che vuol dire che non ci sarà più un ordine solo della magistratura, ce ne saranno due, uno per la magistratura giudicante, con un concorso e un proprio CSM e uno per la magistratura inquirente con un proprio concorso e un proprio organo di autogoverno. La critica che viene fatta di solito a questa proposta è quella di voler minare l'autonomia dei magistrati, non è assolutamente così perché rimarrebbero ordine, rimarrebbero semplicemente separate le due funzioni. Quali sarebbero i benefici? I benefici sarebbero che si darebbe finalmente attuazione completa al principio del giusto processo che vuole un soggetto terzo che decide, che si chiama giudice, e due parti, che si chiamano accusa e difesa, che si confrontano ad armi pari. Quanto tempo c'è ancora per firmare e come fare per aderire? Allora, per aderire si può andare a firmare tutti i giorni in cui è aperto l'ufficio, presso Spazio Comune a Cremona, presso la Segreteria Comunale del Comune di Crema e di Castelleone, e poi si potrà firmare a settembre, quando ritorneremo a fare i tavoli in Piazza Stradivari. Raccoglieremo le firme ancora per il mese di settembre, per metà mese di ottobre. Va bene, io ringrazio quindi per essere stato con noi Alessio Romanelli, sono io che vi ringrazio per l'invito. Grazie, arrivederci.